Una struttura all'avanguardia che nelle intenzioni dovrebbe svilupparsi su una superficie di circa 70.000 metri quadri in zona bocca d'oro per un investimento interamente privato da quasi mezzo miliardo di euro è l'ambizioso progetto di un gruppo imprenditoriale con ramificazioni in tutta Italia ma che ha radici forti sul territorio del nord barese e che punta a dotare Trani e più in generale la BAT di una struttura ospedaliera dedicata all'oncologia con diagnosi che cura l'avanguardia. L'idea di collocarlo a Trani nasce da uno studio fatto sul territorio, sul centro sud e abbiamo definito Trani il punto di snodo e nevralgico dal quale possono partire e possono giungere tutta una serie di pazienti che necessitano. Ragion per cui abbiamo deciso di prendere Trani proprio perché è la posizione geograficamente più idonea per un investimento di tal tipo. Operatività H24, sette giorni su sette hanno ribadito i promotori dell'iniziativa che è ormai in cantiere da un po' e che anche a causa del covid ha dovuto rallentare nella fase di avvio. Il progetto è stato comunque presentato questa mattina a Trani con la partecipazione anche dell'architetto Massimo Roy che ha spiegato l'idea strutturale. Impossibile però per ora immaginare le tempistiche precise. È un investimento da quasi mezzo miliardo di euro e prevede il massimo delle tecnologie, il massimo dell'umanizzazione, il massimo dell'expertise dell'architetto Roy dal punto di vista architettonico, delle tecnologie e dei partner tematici che abbiamo per cui ha l'ambizione di diventare e di essere il più grosso centro oncologico del Mediterraneo. Sicuramente tra i primi tre d'Italia e tra i primi cinque d'Europa. Si resta comunque in una fase molto embrionale dell'iniziativa. Tanti gli scogli da superare a partire dalle complicate autorizzazioni della regione Puglia che ha competenze esclusive in materia di sanità ma anche successivamente delle varianti urbanistiche che dovranno essere affrontate sicuramente in un'importante conferenza di servizi con il comune di Trani. Entrambi gli iter sono praticamente allo stato iniziale. Abbiamo iniziato i vari iter, logicamente scontiamo i tempi della politica, questo è indubbio.